buongiorno a tutti e ovviamente come al solito forza juventus oggi ragazzi si gioca oggi siamo in match day oggi si affronta nuovamente neanche a dirlo la lazio questa volta non più in serie a bensì in coppa italia e c'è stata una sorta di piccolo ritiro anche se di ritiro proprio non si può parlare dato che la juventus ha dormito alla continassa al j hotel e poi oggi andrà a raggiungere lo stadio tutti insieme è esattamente quello che abbiamo visto già contro il genua per cercare di tenere compatto unito il gruppo abbiamo visto che questa cosa non è servita assolutamente niente però la juventus ha riproposto questa soluzione per la giornata odierna vediamo se questa volta cambierà qualcosa oppure no è molto interessante vedere quella che è stata la classifica di serie a nelle ultime nove giornate nove giornate che appunto sono le giornate del degrado juventino a partire appunto da juventus empoli quel pareggio che ha portato a una serie di cose che poi ci ha proiettato a dover gufare gufare la roma contro il lecce per sperare che potesse non avvicinarsi così tanto al posto occupato dalla juventus in classifica anche perché il bologna ha vinto per 3 a 0 in maniera molto molto agile sulla salernitana io ieri vi dicevo la salernitana è l'unica che mi fa dire nel calendario della juventus si può essere una vittoria tranquilla ma nemmeno quella mi dà la garanzia assoluta di portarmi a casa i tre punti il bologna li ha liquidati con un secco e sonoro 3 a 0 ma parlavo appunto della classifica delle ultime nove giornate perché era capricciante ragazzi ora vi metterò qui a schermo proprio la classifica intera e come potete vedere appunto il bologna è alle spalle dell'inter di un solo punto 25 punti l'inter 24 punti il bologna addirittura il milan nella roma a 20 poi l'atalanta il monza il monza anche il napoli che sembra essere all'interno di una stagione maledetta è comunque lì nella parte sinistra con 13 per trovare la juventus invece dobbiamo scivolare in giù in giù in giù in giù fino alla lotta per non retrocedere perché nelle ultime nove la juventus ha conquistato soltanto sette punti e questo lo sapevamo però è una delle peggiori in serie a leggermente peggio di lecce fiorentina empoli e cagliari leggermente meglio di sassuolo con cinque punti frosinone con tre punti e salernitana con due punti e se guardiamo le ultime cinque bene o male sono le uniche vittorie della juventus da quando è iniziato il girone di ritorno e questa ci dà la dimensione di quello che la juventus attualmente e credo che questa foto nello specifico vado a testimoniare che non è un discorso di giocatori scarsi e che quindi è difficile con questi giocatori vincere contro l'inter ragazzi qui non si parla più di vincere contro l'inter cioè non è quello lì il discorso non è lo scudetto non è il focus non è il target il problema è diverso è che qui si è perso completamente il gruppo la testa dei giocatori e questo per me è sempre da esonero non importa niente che uno si chiami allegri sarri pirlo conte del neri zaccheroni ranieri lippi questo è sempre da esonero quando perdi la testa del gruppo è un bel problema perché anche quando la juventus era al secondo posto a due punti dall'inter dicevo che non avrei rinnovato allegri nemmeno in caso di scudetto perché si trattava di una stagione usa e getta difficilmente replicabile perché basata tutta sull'unità di intenti e non sulla tattica e addirittura questa stagione che pensavo potesse essere difficilmente replicabile e non è nemmeno terminata guardate cosa è successo nelle ultime nove quindi questo è un problema grosso se non grossissimo per la juve ed è difficile intervenire andando a toccare quelle corde lì in questo momento qui come fai adesso andare a riprenderti il gruppo è qualcosa di molto complicato e servirà un vero e proprio miracolo da parte di allegri e sì perché il miracolo sarebbe questo ritrovare l'affinità con il gruppo non tanto qualificare se la champions con questa squadra che è normalissimo che sia così poi io in queste ultime ore sto sentendo tanti che ti feranno contro io no ma non riuscirò mai a tifare contro la juventus a sperare che la juventus sul campo possa ottenere una sconfitta non mi interessa se il fine è esonerare allegri a me interessa che la juventus riesca a qualificarsi per la supercoppa vincere la coppa italia qualificarsi per la champions e poi bisogna essere comunque sicuri tranquilli concreti coerenti corretti coraggiosi nell'analizzare la situazione e dire allegri comunque va preso e va allontanato dalla juventus anche in corsa se necessario anche se nel video di ieri vi ho espresso un po le mie perplessità dal punto di vista logico poi vi dico io li vedo i video dei vari giornalisti che sono anche amici gli leggo gli articoli leggo quelle che sono le sensazioni e cioè che anche in caso di sconfitta oggi la juventus non esonererebbe allegri ieri romeo è andato un po in là ha detto questi sono i piani della juventus ma se poi dovesse arrivare una grossa sconfitta chissà non mi interessa io spero che la grossa sconfitta non arrivi però provo anche a darvi una lettura provate a immaginarvi se gli organi di informazione oggi fossero usciti con questa notizia sì lo spiraglio c'è se la juve oggi perde allegri esonerato se già c'è oggi il clima del speriamo che possa perdere con tanto così la società può venirgli in mente che provate a immaginarvi il clima della partita questa sera con se allegri non vince neanche perde non vince viene esonerato tifoso la juventus stasera non penserebbe alla partita per niente almeno non penserebbe alla vittoria della juventus al risultato positivo la juventus per niente poi io vi ripeto quello che mi è arrivato a me è che comunque la juventus starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di allontanare allegri tra mercoledì cioè domani in caso di risultato negativo davvero con con la lazio è l'unico incastro è da capire con le tempistiche della partita di domenica con la fiorentina tra l'altro oggi leggevo che tutto sport andava in questa direzione confermava questa cosa dicendo però che sulle partite con fiorentina e torino essere decisive beh ragazzi il torino abbastanza in là è metà aprile 15 14 di aprile sarebbero altre due settimane più la coppa italia altre tre partite io credo che se hai intenzione di fare la stagione in corso hai davvero necessità di altre tre partite o lo vuoi fare o non lo vuoi fare siamo a questo punto perché dargli altri 180 minuti di serie a in questa condizione di juventus con le ultime nove giornate che hanno gridato vendetta significa allontanarsi ulteriormente anche perché domenica noi potremmo scendere in campo virtualmente sotto al bologna e meno male che lecce ieri si è preso quel punticino e la roma ne ha presi due in meno rispetto ai tre che erano a pronostico meno male che è successa questa cosa qui per fortuna senza dimenticare che l'atalanta e la fiorentina hanno da recuperare una gara quindi l'atalanta potrebbe essere potenzialmente ancora più vicino alla juve quindi non è questo il discorso del risultato è avanti e 180 90 la serie a la coppa italia ragazzi parliamoci chiaro cerchiamo di non entrare nel mondo della follia cerchiamo di entrare nel mondo della realtà e della concretezza la juventus oggi rischia di non qualificarsi alla champions sì la juventus oggi rischia di uscire dalla coppa italia sì la juventus oggi è a un rendimento alla zona di retrocessione sì la juventus oggi segue il suo allenatore no queste sono le domande queste sono le risposte utile che stiamo qui le congetture se perde questa se perde l'altra poi dentro la juventus devono avere le idee chiare ieri vi dicevo la cosa che mi dispiace è proprio questa che debba passare il ragionamento di testa in testa perché poi allora non stiamo facendo il lavoro andando ad attribuire a ogni persona un'area di competenza particolare sì ce l'ha però sì ce l'ha però giuntoli al potere sì però allora questa roba non va bene questa è la mia lettura personale poi passiamo a quella che è la probabile formazione ecco oggi allegri dovrebbe andare a puntare su i suoi uomini più fidati per quelli che sono state le scelte di campionato la classica formazione titolare col 352 che ti viene in mente c'è un fatta per il portiere perché dovrebbe giocare per in piuttosto che scesni non perché scesni ai microfoni abbia detto delle cose estremamente condivisibili ma perché banalmente per in il portiere coppa italia quindi confermato il 352 non che ci siano state delle modifiche perché anche quando è stato 433 era comunque 352 per in danilo bremer gatti anche se su danilo si parla di un possibile ballottaggio con rugani costic a sinistra e cambiaso a destra locatelli rabbio meccenni e davanti vlaovic che torna la squalifica e chiesa anche se anche qui attenzione perché si parla di un ballottaggio con ildis io non so dire il tempo sinceramente che ildis non parte titolare nella juventus da escludere al cento per cento la possibilità legata al tridente beh sembra di sì in questo momento allegri sembra orientato a rimanere sul suo 352 con cui la juventus aveva raccolto risultati però ragazzi qua c'è da mettersi in testa che dall'altra parte invece igor tudor ha dimostrato che buttando dentro anche tanti giocatori offensivi si riesce a essere molto equilibrati e anche abbastanza convincenti per essere solo a dieci giorni di lavoro quindi una settimana e poco più e questa sera tornano gli stessi fantasmi che abbiamo visto due tre giorni fa proprio all'olimpico stavolta saremo in casa ma abbiamo visto che la juventus all'allianz non ha più un fortino invidiabile come una volta sarà dura sì sarà difficile sì sarà una serata lieto fine non lo so quella che è la morale che vi do io è speriamo che la juventus vinca se poi la juventus non vincerà e questo porterà l'esonero di allegri ben venga ma di default di principio io contro l'eventus sul campo non ci vado e non ci andrò mai e anche oggi anche in questa partita termino il video con un forza juventus